E essere scorretto! Perché saranno così, Orsetto? Ma... Perché saranno... Cosa... Cosa ha ascoltato l'Orsetto? Mar... Mar, non la finirai mai. Non sei brava a fingere. Non sto fingendo. A dire il vero, quello che ti sta succedendo non solo lo sappiamo io e Simone. Lo sa la casa intera, il cortile, il pubblico della bestia pop. Lo sanno tutti, Mar. Bene, bene, allora... Se lo sa tutto il mondo, non c'è bisogno di parlare con nessuno, capisci? No, amore, ancora il talk show, ti prego, no. Talk show? No, non è un talk show. È un colloquio intimo. Sotto tra noi due. Parliamo, Mar. Perché stai giocando? Se stai con me, non devi pensare a Simone e prenderla male e s***a con un'altra. Perché? Non so. Non so, sono confusa. No. No, tu non sei confusa. Tu sai cosa vuoi. Sì. Lo so. E cosa vuoi? Io so quello che è passato, quello che sta passando, quello che è passato. Sì, lo so. Tu sei il mio grande amore. Con Simone, non so... Mi sento molto stupida, molto... Egoista. Lo vedo con una ragazza e... Divento subito gelosa. Però io amo te. Lo so. Hai cercato di distruggere tuo figlio separandolo dagli amici. Dalla sua ragazza. Ma non ce l'hai fatto.